L'amore per l'Africa è nata all'improvviso. Un continente pieno di storie e di tradizioni. Chi di voi sa dov'è l'Africa? Quando ho conosciuto questo ragazzino qui. Per me è Afrika o Bulgari. Per me è importante quello che stai facendo per questi ragazzi. Stai aprendo delle strade. Vado ad insegnare in Africa, vado ad insegnare in Africa. Perché devo tornare? Mi sei mancato! E non lo so, guardo! Fulvio, tu non puoi non dirgli la verità. Io non posso dire delle bugie, non capirebbe. Hai sempre fatto quello che volevi fare te. Se mi hai chiesto cosa voglio fare io! Giulio. Giulio cosa? Che succede? Fesseri, ci addivido meglio. No, infatti sto meglio. Forse devi dirmi qualcosa? No, fattena a favore. Vattene! Vattene! E che bisogna sapere amare, sai? Non è importante trovare la persona giusta, ma innamorarsi.